Benvenuti oggi, è una giornata importante per il trasporto pubblico locale marchigiano. È un'epoca di cambiamenti, secondo me il trasporto pubblico locale non poteva esimersi da questi cambiamenti. Come Regione Marche ci eravamo dati due obiettivi importanti. L'obiettivo principale era il rinnovo delle flotte, perché chiaramente dovevamo sostituire i vecchi Euro 2, Euro 3 che oramai hanno età superiori ai 20 anni con autobus sia per l'urbano che per l'extraurbano, chiaramente o a metano o il futuro dell'elettrico. Ecco perché abbiamo stanziato 157 milioni nel decennio 2023-2033 e abbiamo già inaugurato, e pensate che è sabato pomeriggio, a fermo abbiamo inaugurato 14 autobus extraurbano a metano. Quindi un importante traguardo. Gli autobus di nuova generazione chiaramente hanno tutti i vari dispositivi, hanno anche una telecamera interna per il controllo, hanno questa nuova bigliettazione della quale fra poco entreremo nei dettagli della nuova bigliettazione, dei nuovi bigliettatori o quant'altro. E poi un'altra mission che ci eravamo dati, come dicevo, era questa dell'accessibilità. Avere delle fermate attrezzate. Fermate attrezzate vuol dire avere i monitor per sapere quando arriva il prossimo autobus e quindi non far aspettare gli utenti ore e ore alla fermata e poi dotare, ritorno sugli autobus, dotare tutti gli autobus per i disabili. Questo è importante, gli autobus di nuova generazione hanno tutti una pesana per disabili. L'altra mission importante era la tariffazione, questa bigliettazione automatica chiamata anche infomobilità. Allora, siamo stati una regione, siamo partiti per ultimi, ma vi assicuro che oggi la regione Marche è la prima dal punto di vista online. Quindi è un unico titolo di acquisto, una bigliettazione che chiaramente può essere fatta o con una smart card contactless come il bancomat tradizionale, può essere fatta con il QR code, può essere fatta col vecchio metodo del telefonino, ma anche per i turisti che magari arrivano nelle Marche, questo è molto importante, pagare la corsa dell'autobus con la classica carta di credito. Ecco, questo ci tenevo a dirlo. Cosa abbiamo fatto per arrivare ad oggi? Abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con i 35 operatori e nei 35 operatori chiaramente ci sono le 5 aziende consortili e tutti voi fate parte delle aziende consortili della regione Marche, le 5 aziende consortili più gli altri. di questi Conerobus è delegato a fare la gara, ha fatto una gara Conerobus, la gara l'ha vinta la plus service dell'ingegnere Giorgio Fanesi che ringrazio per la collaborazione, eccolo qua Giorgio, e ricordo che tutto questo è stato coordinato con il nostro servizio trasporti da ben due anni con le 5 aziende consortili. Questo vuol dire che è stata una programmazione condivisa, questo era importante, ciò non ha deciso la regione Marche. Parliamo di un progetto da 7 milioni di euro, il 66% viene finanziato dalla regione Marche. Io ho altre cose da dire, è un sistema evoluto online, poi, ah ecco, il nome Marta, il nome Marta come vedete, le prime M, A, R e Marche, T sta per trasporto e la finale, il simbolino, è la di app, chiaramente collega le colline marchigiane con la regione Marche e quant'altro. Una cosa importantissima è per chi, abbiamo già fatto vedere al Presidente, poi lo faremo nella dimostrazione pratica perché abbiamo un autobus di Conerobus che ha già questo sistema, quindi è possibile nel momento che si entra nell'autobus è possibile chiaramente smarcare qualora ci sia qualcuno ancora che voglia andare ad acquistare il biglietto dal tabaccaio, è possibile smarcarlo, ma la seconda volta chiaramente suona con un suono molto gracchiante direi e quindi speriamo che con questo eliminiamo e guardo Giorgio Luzzi che ride che di eliminare molto il problema dei portoghesi, chiamiamoli così, si dicevano così, quelli che non volevano pagare allo stadio erano portoghesi e questi lo sono. Altra cosa molto importante, tutti gli autobus sono dotati di telecamera per questo doppio confronto e di un satelitare online per sapere quanta gente viaggia in un autobus, questo ci siamo dibattuti tante volte, perché è inutile aumentare i chilometri, aumentare i chilometri alle aziende quando poi ci sono delle corse che chiaramente non vengono sfruttate, vengono usate da pochissimi passeggeri, questo non deve più accadere, se vediamo che c'è una corsa alle 7 del pomeriggio dove abitualmente 5 persone prendono l'auto, bisogna trovare soluzioni ben diverse e questo, con questo sistema online noi riusciremo a verificare tutto questo. Io però l'ho finito e lascio la parola al Presidente, spero di non averla fatta a lunga. Buongiorno a tutti, inizio con una battuta, avete fatto contentissimo l'assessore Brandoni che mi sembra abbia espresso la sua soddisfazione per il raggiungimento di questo obiettivo, che è effettivamente importante perché proietta la nostra regione in un sistema diverso, soprattutto per una regione complessa fatta da bacini differenti e anche da un'interconnessione complessa tra aree interne ma anche sulle aree costiere, credo che una bigliettazione unica possa essere un punto di partenza fondamentale per semplificare la vita ai nostri cittadini ma soprattutto per essere in grado più accoglienti nei confronti anche dei visitatori non residenti, quindi immagino i turisti, i professionisti che per muoversi vogliano cercare di prendere appunto il trasporto pubblico locale. È importante anche l'investimento che la regione Marche ha fatto e sta facendo sulla rigenerazione del parco perché credo che questo non solo possa essere un tema che si approccia per la sostenibilità che è sicuramente molto importante, credo che possa essere un tema che si approccia sulla sicurezza e si approccia anche sull'immagine che noi diamo nel nostro territorio e chi il nostro territorio lo vive. Questi sono investimenti che chiaramente sono frutto di una scelta necessaria e non più prorrogabile perché era ed è fondamentale avere un trasporto pubblico efficiente. Io lo ricordo sempre e speriamo anche di poter ricordare la soluzione di quello che sto per dire. Noi purtroppo abbiamo un trasferimento da parte dello Stato storico che ci pone come ultima regione in Italia. Questo è un dato che dovrebbe essere non dico sovvertito ma almeno dovrebbe essere riequilibrato. Su questo insieme all'assessore Brandoni e devo dire anche al governo e ai nostri interlocutori del governo nazionale stiamo cercando di lavorare. Non è semplice perché questa scelta deriva in maniera particolare la conferenza delle regioni e ha contributo siccome il trasporto pubblico è tutto in forte difficoltà ha contributo invariato o ha incremento il contributo basso visti anche i costi che dopo il Covid con il Covid a causa dell'inflazione hanno inciso su tutte le aziende italiane diventa difficile in un contesto come quello della conferenza dei servizi chiedere un riequilibrio perché ogni regione per il principio della salvaguardia del proprio ambito cerca di trattenere più risorse possibili però speriamo di trovare una finestra che ci possa consentire di avere anche un riequilibrio io dico sempre che andrebbe bene tenere l'ultima posizione in coabitazione con qualcun altro significherebbe comunque un incremento importante delle risorse per il nostro trasporto pubblico locale questo è importante perché una grande parte del nostro territorio sta soffrendo in maniera particolare quella dell'entroterra non cito per niente il cratere sismico che purtroppo è stato oggetto di un forte spopolamento per condizioni forzate e però credo che proprio anche per rilanciare questo territorio sia importante renderlo fruibile e renderlo accessibile e in questo senso è fondamentale mettere in campo più strategie possibili questi temi chiaramente non hanno una attinenza diciamo con la giornata di oggi che invece ci vede inaugurare un sistema digitale tecnologico all'avanguardia però mi faceva piacere dato che ci vediamo tutti insieme dopo tanto tempo fare un passaggio anche su questa sfida enorme che ci darebbe quell'ossigeno necessario per compiere fino in fondo al meglio il nostro ruolo non vado oltre credo che dobbiamo proseguire anche fuori dalla sede istituzionale nel pullman che è parcheggiato qua di fronte la conferenza stampa quindi se non ci sono domande o interventi direi di iniziare a muoverci verso l'esterno una cosa Presidente non c'è intervento senza dimenticanza ma l'avano chiesto i giornalisti i tempi partiremo con l'inizio dell'estate con l'urbano di Pesaro quindi in elettricità Pesaro Urbino e Fano poi allargheremo all'inizio delle scuole a settembre e mi auguro che entro il 2025 riusciamo a farlo questo titolo di viaggio a livello generale a livello regionale io però due parole all'ingegnere Fanesi che chiaramente della Pluservice prego non ti do del lei perché ci conosciamo da una vita siamo falconaresi quindi prego grazie io volevo confermare che per noi è una grande soddisfazione perché come Pluservice dopo 36 anni di attività avere la prima referenza a livello nazionale in casa non è una cosa semplice non è scontato che i migliori progetti si fanno in casa di solito il contrario ci siamo riusciti e questo grazie anche alla collaborazione come avete detto prima è un lavoro fatto insieme noi tutti i tecnici di tutte le varie aziende e i tecnici della regione che quindi è stato un lavoro di squadra dove ognuno ha messo la propria esperienza ecco oggi penso che sia veramente la base per qualcosa di nuovo è l'inizio di una nuova era ci saranno delle possibilità enormi a livello di sviluppo l'avete accennato voi ma alcune ma la cosa più importante è sempre nuovi sistemi tarifari ma soprattutto avere dati avere dati in tempo reale quindi il fatto di poter vedere dal vostro cellulare qual è l'utilizzo giorno per giorno secondo per secondo della gente che è a bordo vuol dire che quando succede qualcosa e riprogrammiamo possiamo avere un riscontro immediato questo è veramente il futuro quando si parla di dati intelligenza artificiale ma l'intelligenza artificiale si basa sui dati se i dati non li abbiamo sarebbe una cosa impossibile finalmente oggi la regione Marche è arrivata al top quindi questo grazie di questa opportunità per noi è sicuramente un orgoglio grazie 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 grazie